Da poche ore in realtà il bilancio di previsione 2024 del Comune di Pescara, Assessore Seccia, un bilancio che vede quali punti salienti? Un bilancio che vede la programmazione per 365 giorni, cioè per l'intero anno, che stanzia 8 milioni e 100 per Pescara Energia, quindi per la pubblica illuminazione che è stata in un recente passato oggetto di un'altalena di costi, che stanzia 1 milione e 2 per il Verde, che stanzia 140 mila euro per il Museo delle Gentili d'Abruzzo e per le altre partecipate, permettendo loro di fare una programmazione per l'intero anno. Il prossimo anno c'erà la scadenza elettorale a giugno, ma noi abbiamo stanziato ciò che serve per la città, mettendo da parte quelle che possono essere le convenienze personali da poter spendere in campagna elettorale. Abbiamo fatto un bilancio serio, come la gente si aspetta che sia, quindi grande soddisfazione anche per i tempi di approvazione del bilancio. La maggioranza ha dimostrato coesione, perché quando il bilancio viene approvato entro l'anno c'è sicuramente un lavoro dietro di carattere politico, ma anche grande responsabilità da parte dei consiglieri, anche se mi permettete, da parte dell'opposizione. Questo bilancio è il terzo bilancio approvato da questa amministrazione entro l'anno in Consiglio Comunale, quindi anche questo non è un caso, non accadeva da tempo che ci fossero questi numeri sui tempi dell'approvazione del bilancio. Così dal 1 gennaio 2024 il Comune potrà non avere l'esercizio provvisorio, quindi non lavorare per dodicesimi, ma programmare in maniera compiuta l'intero anno finanziario e l'intero anno amministrativo. Sul fronte del sociale quali sono state le misure messe in campo? C'è uno stanziamento record nella storia di Pescara, 18 milioni di euro circa, e tanto Cuba e il piano sociale del Comune di Pescara. Il Comune di Pescara ha aumentato di ben 289 mila euro i fondi propri, mettendo ovviamente evidenza di quello che è l'impegno e la sensibilità che l'amministrazione ha avuto nelle classi più deboli. Quindi sicuramente la parte del sociale rappresenta un'importante fetta del bilancio comunale, che si dirama in 78 servizi che andranno a impattare positivamente sulle esigenze delle parti più deboli. Tra l'altro questi 78 servizi vanno a categorizzare quelli che sono gli interventi, non permettendo delle personali valutazioni sulle esigenze del territorio, ma in qualche modo gestite in maniera matura e compiuta dagli uffici, che ovviamente sono coloro che in qualche modo hanno il polso della situazione sulle esigenze delle persone e dei cittadini pescaresi.